Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se ci racconti cosa è successo oggi, Piero Spina è responsabile dell'addestramento delle persone qui alla Canottieri Firenze. Oggi è un giorno particolare, immagino. È il 25 aprile, la liberazione. A parte questo è una giornata per noi speciale. Abbiamo fatto questa festa in casa per consentire alle persone, agli abitanti dei quartieri, cittadini, di provare la canoa. Questa è un'attività che facciamo più volte nell'anno. In questo periodo stiamo anche manifestando perché abbiamo il rischio di chiusura di questi impianti, di questi impianti che servono alla società, servono a tutti. Noi alleviamo qui circa 120-130 bambini all'anno che li prepariamo e poi diventeranno i futuri campioni di domani.